Sono Carolina Novakova. Il tuo dormitore è quello della porta accanto? Non tollero i vicini di merda. Oddio, guarda l'ora. Dovrei proprio andare adesso. Mi chiamo Alistair. Tadashi Nakano, presidente del consiglio studentesco e membro del dipartimento affari, commercio e politica. In realtà ho incontrato una ragazza di nome Carolina che stava cercando qualcuno con la tua descrizione. Iniziò a ripulire rapidamente i resti della sua colazione e si alzò per buttarli via. Le parole non avevano completamente lasciato la mia bocca prima che lei stesse correndo fuori dalla mensa. Un ragazzo che i capelli corti e rossi era seduto a una delle scrivanie e lavorava al suo laptop. Non mi ha sentito entrare. Speriamo che questa volta funzioni. Borbottava e digitava furiosamente sulla tastiera, gli occhi rossi e le sopracciglia intrecciate. Dopo alcuni secondi passati a esaminare il contenuto sul suo schermo, premette il tasto invio con un'espressione ansiosa sul viso. Beh, ma è andato via il riflesso negli occhiali. È finita la fase Detective Conan. Già, lavora con me. Ma io sto adorando questi sprite, ma sono bellissimi. Riusciva a malapena intravedere un movimento sul suo laptop. Qualcosa che non riusciva a decifrare è cambiato sul suo schermo e il ragazzo è saltato lanciando un minuscolo grido di vittoria. Yehi! Ora mi deve molto. Mi sembrava di starmi intromettendo. Gira i tacchi per lasciare l'aula. Quando il ragazzo mi notò e si schierì la gola. Posso aiutarla? Ci dà del lei. Oh mio Dio. E anche arrossito. Che è lo ear. Sei un lei. Sei un lei. Sei un voi. Sei un voi. Anche arrossito, pooretto. Siamo così affascinanti. Non ci sono abituata, perché io considero che è l'erker delle cesse protoniche. Delle pantofole. Sì, esatto. La sua faccia arrossì leggermente. Io ho pensato che non si aspettava che nessuno lo prendesse nel suo momento di gloria. Bel modo di essere uno stalker, Keloir. Cioè, no. Stavo solo guardando in giro per la scuola. Sono Keloir. Mi sono mosso rapidamente in avanti e ho offerto la mia mano per stringerla. Tegan, io vengo dal dipartimento di scienze pure e applicate. Mi strinse la mano. Ho dato un'occhiata allo schermo del suo laptop. La mia curiosità ha avuto la meglio su di me. Eh, sei proprio fratello di Keloir. Sì, sì. È di famiglia avere il naso ovunque. A cosa stai lavorando? Sempre ammesso che non ti dispiace che te lo chieda. I suoi occhi sono leggermente allargati e ha rapidamente ridotto a icone alla sua finestra e l'ha sostituita con un foglio di calcolo generico. Eh, che otome stavi codificando tu, eh? Hai modificato il codice di qualcosa, eh? È solo roba scolastica che dovrei davvero tornare a... Devo finirla prima di mezzogiorno. Guarda, se non volevi essere sospetto, non ci sei riuscito. Sì. Più che altro perché Keloir è bravissimo a infilare il naso dove la gente non vuole che lui infili il naso. Il motto di famiglia infila il naso ovunque. Oh, ho annuito concentrando lo sguardo sul pavimento. Indossi calzini sbagliati? Yes. Ne ha un altro paio uguale. Sono scoppiato a ridere facendo sobbalzare leggermente Tegan e alzare lo sguardo dal suo latto. Mi dispiace. Mi ci è venuto un momento per capirlo. Ma bravo. Ho sorriso. Thanks. Ok, lui non ci pensa. Sembra che florti con tutti. Ma sono gli altri, secondo me. La reazione degli altri è il problema. Farà un'ipotesi folle e dirò che non molte persone capiscono quella battuta. Eh, ci vuole un certo genio, in effetti, per capirlo. Beh, è stato un piacere conoscerti Tegan. Dovrei andare adesso. Sì, anche per me. Oddio, ma c'era anche questo tizio. Era coperto da Tegan. Mi mancava. Mi piace come sia quadratico. Sì. Uè, attento! Ho alzato lo sguardo e ho visto una ragazza dalla pelle scura che mi tirava un pallone da calcio addosso. Velocemente mi sono sposato il lato appena in tempo perché la palla mi sorpassasse in volo. Avresti potuto almeno fare un tentativo di catturarlo. Chi? Pikachu. Non mi trovo bene con le persone che mi lanciano roba, soprattutto se non le conosco. Che lo sai, Tony Stark? Cos'è quest'aura da superiore? Ma sì, abbassa la cresta, Callowire, se non te la abbasso io, sia chiaro. Io ho il potere su di te. Bene, allora. Mi chiamo Raquel e come avrai notato, il calcio è ciò per cui vivo. Il calcio è ciò per cui vivo. Ciò, Chang, Affambego, Tu e Tu, Ciò. Callowire. Dipartimento di atletica leggera, quindi? Il che mi ricorda che oggi non ho molto tempo per esercitarmi. Qualcosa di importante devo fare questo pomeriggio. Quindi dovrei andare avanti, davvero, forse. Ci vediamo, boy! Si è allontanata senza aspettare una risposta. Il pallone da calcio è nascosto sotto il braccio. Boy? Tutti qui sembrano avere cose da fare più tardi oggi. Mi chiedo se c'è qualcosa che non so. Ma, probabilmente sì. C'è qualche riunione illustrativa che faranno e di cui non sapevo niente. Come sempre. Comunque dovrei tornare ad esplorare la scuola. Un forte rumore sorta ha immediatamente attirato la mia attenzione su uno degli angoli della stanza, dove una ragazza stava smistando quelli che sembravano essere frammenti di metallo. Si è fermata quando mi ha notato. Cioè, lei fa parte del Dipartimento d'Ingegneria. Sei così, è fighissimo. Ciao, non credo di averti visto in giro prima. Sei nuovo? Sì, sono appena arrivato. Sono Keloir. Piacere di conoscerti, Keloir. Sono Ellie Collins, presidente del Club di Robotica e il Genio Pazzo di Quartiere. Oh, mi è simpatica questa. Robot? Quindi sei nel Dipartimento di Scienze Pure Applicate? Sì, so che avere due Dipartimenti di Scienze può creare un po' di confusione, ma ce riuscirai. In ogni caso, dovrei davvero tornare a finire questo. O puoi restare a guardare, se vuoi. Beh, salutiamo e andiamo via. Andiamo a esplorare. Cazzo, però saluta veramente. Eh, infatti, almeno è il giragallone e vattene. Sì, lo so, ma era molto un chio di dialogo. Perché non hanno mai le buone maniere in questi giochi? Non mi è capito, un po' di educazione. Santo cielo, questo posto deve avere ogni tipo di pianta che ci sia nel mondo. Oh, solo un centinaio di loro, in realtà. Mi voltai e vedi una ragazza dai capelli biondi e in ginocchiata davanti a uno dei grandi vasi rettangolari. Oh, ciao. Non pensavo ci fosse nessun altro qui fuori. Però sai, è una cosa che ho notato che mi piace. Lei invece ha un corpo umano. Sì, è vero. Mi sono guardato anche io adesso. Ma se guardi anche il figo numero uno, il biondo. Anche lui se lo guardi è palestrato, però se lo guardi non sembra completamente, non snellissimo. È grosso proprio. Però lui deve essere grosso, quindi è grosso. Però è il fatto che tipo, negli altri otome, semmai hanno le spalle larghe, gli addominali, ma hanno il vitino da Barbie. Esatto. Invece lui si vede che anche i fianchi, da uomo, è proporzionato per il suo fisico. E ci sta. Sono stati bravi sia nel fare i personaggi variegati, sia per etnia. No, ma infatti c'è una bella varietà e proprio anche di aspetto. Non solo di... Esatto. Oltre all'etnia hanno proprio anche personalizzato bene i personaggi. Sì, esatto. Va tutto bene. È facile per me passare inosservata. Oh, andiamo. Ne dubito. È facile sentire la tua mancanza se ti accovacci in un angolo del genere. Però non significa che sia impercettibile. Grazie. Mi hai piaciuto le espressioni che fanno. Cioè, qua cambia veramente. Sì. Beh, sono un po' nuovo qui e stavo solo guardando in giro. Scusa se ti ho interrotto o altro. Sono Keloir, comunque. Va tutto bene. Stavo solo guardando le erbe medicinali della scuola. Felice di conoscerti, Keloir. Sono Claire. Un piccolo suono squillante è venuto improvvisamente da una delle tasche di Claire, spaventandoci entrambi. Ha tirato fuori il telefono e ha guardato il suo schermo prima di spegnere l'allarme. Oddio, è quasi ora. Ma per cosa? Ma qualcuno gli ho dici a sto povero Cristo. Chissà. Adesso devo andare. Mi è stato un piacere conoscerti. Piacere di conoscerti anche a te. Si alzò per pulirsi e poi lascia il giardino con un piccolo cenno nella mia direzione. Ehi, Keloir. Tadashi. Cosa? Ah, c'è già tutti rossi. Oh, che carino. Keloir è rossito. Da quanto tempo giro vaghi per i corridoi? Perché non hai ancora scattato la foto della tua tessera studente in palestra? La mia cosa? Nessuno te l'ha detto, ovviamente. Ma io sono felice se me lo dici tu. Sospirò pizzicandosi l'ardice del naso tra le dita. Lo giuro. A volte mi chiedo come mai questa squala non sia ancora andata in fiamme. Oh, doversi vedere il dolce amores allora. Eh là là. Puoi non dirlo troppo ad alta voce perché a volte vanno in fiamme veramente. Ehm... Tadashi? Giusto. Dovresti essere in palestra a scattare la foto di tesserino in questo momento. Quindi corri nella tua stanza, indossa l'uniforme, anche se ce l'hai già addosso. Poi corri in palestra e scatta una foto. Altrimenti finirà per essere più scartoffio per me. Oh, è sempre un piacere farti scartoffare per me. Aspetta, devo fare una foto? Adesso? Keloir, ti prego. Non attivare il gene della pirlaggine della tua famiglia perché per ora ti eri salvato. Ti ho appena detto che devi fare una foto. Quindi non puoi chiedere se devi fare una foto. Palla e passa. Sì. Ecco io, se fossi in Tadashi, ho detto, beh, questo è un deficiente. Bene. Andiamoci a mucchio, c'è il palestrato andando al palestrato. Ma... Non capisci, vero? Adesso sei uno studente della Arlington. Come se questa fosse una risposta, però Tadashi, eh, senza offesa. Anche io sono Keloir, non dice una micchia, avrò anche sta frase. Ma... O Keloir, ma sai dire qualcosa di diverso? Da ma... Trattino, porca cazzozza. Il tuo file. Le tue capacità e competenze. Tutto questo rappresenta l'Accademia Arlington d'ora in poi. L'amministrazione pubblicizzerà tutte queste cose per aiutarti ad avere successo. Cosa? Cioè, è Keloir. Lo sapete? Keloir Sampung. Siete sicuri di voler pubblicizzarlo, no? Perché le scuole delle sue sorelle parenti preferiscono seppellirle. Quel file sarà utilizzato dalle migliori persone del tuo campo. Stiamo parlando di master, università e aziende di livello mondiale. Sarà la pietra angolare della tua reputazione di persona che rappresenta l'Accademia Arlington e tutto ciò che rappresenta. Che è Keloir? Te lo dico già adesso. Scappa. Siamo fottuti. Noi non siamo per questi luoghi. Dimmi come hai fatto ad accedere a questa scuola. Hai imparato, non è vero. Hai avuto culo. Sarà confrontato con altri. Mostrerà la tua classifica ufficiale, i tuoi punti di forza e di debolezza. Nonché la tua storia accademica e professionale. È una guida completa su chi sei. Oh mio Dio. Tadashi? Questa frase presa fuori contesto sembra tutt'altro. Cosa intendi per classifica? E ovviamente nessuno ti ha detto nemmeno questo. Esatto. Giuro su Dio. Gli studenti senior incaricati di mostrarti in giro dovrebbero davvero intensificare il loro gioco. Non posso continuare a rispondere dopo la loro merda. Dopo la loro merda. Lui è sboccato. Mi piace. Tadashi non intendo interrompere ma... Mi dai il tuo numero? Oh, scusa. Sono solo un po' stressato. Beh, vedi. Alla fine di ogni anno scolastico, l'Accademia Arlington assegna ogni studente una classifica. Questa classifica è essenzialmente la tua posizione di studente rispetto a tutti gli altri. Tengono conto dei tuoi voti, delle tue attività extracurricolari, del tuo lavoro professionale, delle tue capacità, dei premi che ho ottenuto e tutto quel jazz. Se arrivi tra i primi 50 sei nel livello bronzo, se arrivi tra i primi 20 sei nel livello argento e se arrivi tra i primi 10 hai raggiunto il livello oro. E la la, quindi sono solo 50 studenti o quelli sotto i 50 sono a livello siete delle cacche? Secondo me siete delle cacche. Ok, Keylor tu sarai una cacca, sappilo. Tutti gli studenti mirano a raggiungere almeno i primi 50, in quanto ti posizionano automaticamente al di sopra della media. Tuttavia, per mantenere la tua borsa di studio dovrai entrare nei primi 20, Keloir. Ah, quindi vi ho messo una cacca d'argento. Sì. Sarà difficile cagare l'argento. Cosa? Sapevo che dovevo lavorare sodo per mantenere la mia borsa di studio, ma come farò a competere con i primi 20 migliori studenti dell'intero paese? Ma scusami, non te l'hanno detto quando ti sei iscritto, santo Dio! Essere di livello oro è uno dei risultati più alti possibili qui. Riceverai offerte di reclutamento da molte università e aziende che cercano di farti entrare nella loro cerchia ristretta. Celebrità e professionisti affermati vorranno farti da mentore. E là là, signore, c'è, madonna, cos'è sto posto? L'argento va più che bene, troppo troppo ansia, deve essere oro. Sì, sì, esatto, lasciamo qualcun altro. È uno status delete concesso solo al meglio del meglio. Tadashi, se non ti dispiace che te lo chieda, ma a che grado sei? Puoi verificarlo di persona controllando il mio fascicolo scolastico? Sono il numero uno. Non è che posso sfogliare fascicoli scolastici così a muzzo? Beh, sappiamo da chi farci dare ripetizioni. E poi si sa, come in ogni fumetto che si rispetti, che quando chiami qualcuno a fare ripetizioni, non fai ripetizioni. Stai scherzando? E lui lo dice con disinvoltura? Aspetta, cosa vuoi dire che posso controllare la tua cartella della scuola? Non è privata. Oh no, ogni studente membro della facoltà avrà ciasso al tuo file a scopo di riferimento, quindi meglio che tu faccia bene. Ah, viva la privacy! Scopo di riferimento? Cosa significa? Oddio, questo è troppo. Non puoi scherzare con questo, Keloir. Il tuo file non è solo un file, è parte integrante del tuo tempo qui all'accademia. Sostanzialmente è un curriculum. Sì, esatto. Che si aggiorna in automatico e se non lo tieni bene, sei fottuto. Sì. Contando poi che siamo in ritardo per fare la foto, ho l'impressione che nel nostro profilo ci sarà il tipo icona del nuovo profilo di Facebook, tipo che non ha niente, è un'ombra. Oppure tipo noi con la faccia di traverso. Ma per creare il tuo file hanno bisogno della tua immagine. Siete sicuri? Spaccalo i schermi. Qualcosa di questo mi ha reso estremamente ansioso. Tutto ad Arlington è pianificato in modo così meticoloso. Così serio. Però ci sono dimenticati di dirti tutte queste cose. Sì, esatto. Non poteva fare una brochure introduttiva. Adesso sbrigati e vai. Si voltò e se ne andò senza darmi la possibilità di chiedergli nient'altro. Ma vai tranquillo, tanto serve troppo lungo farti spiegare tutto quello che non ti hanno detto. Oddio, ho passato l'intera giornata a spostare scatole e correre in giro. E ora dovrei fare una foto. E quella foto sarà vista dall'intera scuola, insieme a quasi ogni singola informazione su di me. Dio, ho bisogno di un pisolino per elaborare tutto questo. Ok, questa frase va in cornice. Chi è che ha scritto questa meraviglia? Dio, ho bisogno di un pisolino per elaborare tutto questo. Ah, andiamo al dormitorio a cambiarci con una cosa che abbiamo già addosso sporca. E mo' che dobbiamo fare? Clicca? Beh, comunque è fascinoso che è Loir. Scalzo poi, tipo scimmia. Mi guardai lo specchio e gemetti. Madonna, mi deve essere veramente brutto allora, dal suo punto di vista. Ah, dovrà andare. Ehi, guarda chi c'è. Anche tu stai facendo la tua foto, nuovo ragazzo. Ehi, Raquel. Sì, ho impegnato un po' troppo a guardarmi intorno per la scuola. E tu e Claire? Sapevo che Raquel l'avrebbe dimenticata, quindi ho cercato di trovarla dopo che ti ho parlato. Ma ho dimenticato che oggi era il giorno delle prove. E così entrambe abbiamo finito per essere in ritardo. Scusa. Ehi, no, non è stata colpa tua. Sono io quella che continuo a dimenticare queste cose. Oh, beh, adesso scippo queste due io. Sì, sicuro. Almeno ora siamo tutti qui. Mi sorrisero entrambe. Esattamente. Ci sono voluti solo un paio di minuti prima che il ragazzo scattasse la nostra foto. E in poco tempo Raquel mi ha chiesto di raggiungere lei e Claire in giardino. Oh, dai, abbiamo già delle amiche. Con cui spetticolare. Ho scoperto che Claire era esperta in tutto ciò che riguarda le piante. Penseresti che sentir parlare delle proprietà di ogni singola pianta del giardino sarebbe noioso. Ma il chiaro entusiasmo di Claire e gli input esilaranti di Raquel ogni tanto rendeva l'esperienza sorprendentemente divertente. Ma è bellissima. Ma è bellissima. Ma... Beh, no. Cosa la voglio con il sfondo del computer? Ma mi piace da matti. Molto carina. Finalmente delle illustrazioni che posso dire cazzo bella e non dire nient'altro. Esatto. Sono strani, no. Tornano. Sono umani. Esatto. No, è bellissima l'illustrazione. Abbiamo finito per parlare fino al calare della notte. Ed è stato allora che abbiamo deciso con reluttanza che ora di tornare dai dormitori. Ma scusate, ma mangiate voi? Quando sono tornata dal mio dormitorio mi sono reso conto di quanto fossi esausto. Oh, però a me sarebbe piaciuto avere un compagno a distanza. Eh, sarebbe stato più divertente questo sì. Tutto quello che volevo era andare a letto. Perché altro c'è stato bello avere un compagno a distanza, un rompicoglioni, ma poi in realtà scoprivi che ero un po' cioccoso e poi dopo si mettevano insieme. Sì. Questo non era davvero quello che mi aspettavo per il mio primo giorno qui. La quantità di informazioni è stata travolgente e gli studenti sembrano semplicemente provenire da un altro pianeta. È il sistema di classificazione della scuola. Non posso creare di dover entrare tra i primi venti per restare. Sarà difficile. Dovrò dedicare molte ore di lavoro a settimana. Non c'è tempo per scherzare. Potrei anche non avere tempo per fare amicizia. Oh sì, solo studiamo. Sicuramente, Kelly, siamo proprio noi. Il pensiero mi ha reso un po' triste. Ma posso davvero passare il resto dei miei giorni al liceo in questo modo? Schiavizzandomi per arrivare al livello argento? Tanto scopri che sei figlio, legittimo e illegittimo insieme di qualcuno e rimarrai lì dentro per diritto di nascita, una cosa del genere. Dovrei riposarmi un po'. Le lezioni iniziano domani e devo essere pronto per loro se voglio arrivare in cima alla classifica. Vai tranquillo, sei già indietro. Mi sono tolto l'uniforme e mi sono infilato il pigiama, senza meno preoccuparmi di finire di sfare tutte le valigie. Ho sbadigliato mentre tiravo le coperte sul mio corpo e poggiavo la testa sul cuscino. Per qualche ragione non potevo fare a meno di sentire che stavo dimenticando qualcosa, qualcosa di importante. Ma forse un messaggio ai tuoi gentili ho scritto Oh, ciao mamma, sono arrivato tutto a posto, qua sono dei pazzi psicotici, però io sto bene. Ma ero troppo stanco per pensare. Aspetta, non ha puntato la sveglia. Lo scoprirò domattina. Il giorno successivo Mi sono svegliata all'improvviso quando il sole mi ha sfiorato il viso. Oh mio Dio, che ore sono? Ho preso il telefono e il mio cuore si è quasi fermato quando ho visto l'ora. Oh no. Le lezioni erano iniziate 5 minuti fa. Sono saltato giù dal letto e mi sono precipitato a indossare la mia uniforme. Niente doccia, l'uniforme usata il giorno prima, cosa ho spostato scatole tipo, sarà sudato, schifo, che fai? Non posso crederci. Abbiamo finito l'episodio, ok, mi è piaciuto. Questo gioco è fatto bene. Allora, mi piace tantissimo questo gioco, i dialoghi sono interessanti, i personaggi sono fatti da Dio. Sia per, come ho detto prima, perché sono iper variegati, sia perché proprio hanno delle personalità interessanti. Cioè hanno personalità, che già è un notevole passo avanti per alcuni giochi. Sì. Cioè, più che altro è che tipo hanno 10 personaggi e tipo a volte tu vedi già in dolce che ne hanno 5 e a volte si cozzano tra di loro. Mentre qua hanno 10 personaggi e vedi che sono tutti, tra l'altro non ne abbiamo ancora visti tutti e 10. Esatto. Però vedi già che sono variegati. Quindi, cioè, si vede che sono proprio stati fatti bene, pensati bene. Questo è veramente un ottimo lavoro, è stato fatto. Poi anche le illustrazioni, meravigliosa. Cioè, quella nel giardino è spettacolare. Veramente, veramente bella. Poi sì, beh, tra i soliti i problemi della scuola che non ti spiegano a Cipa, ma quello ormai abbiamo capito che... Però visto che c'è stata l'occasione di parlare con Tadashi, io apprezzo. Sì, esatto. Speriamo di essere più ignoranti. Però no, questo gioco mi piace molto, sono curiosa di andare avanti. Per ora, ovviamente, sappiamo poco. Sì, sì. Quindi non c'è molto da dire, però per ora gli aspetti, diciamo, tecnici hanno vinto. Sì. Per il resto, diteci cosa ne avete pensato voi, se l'avete già giocato, se è un gioco nuovo. Ah, diteci se avete scelto di essere un uomo, una donna, se avete già qualche flirt interessante da seguire o se avete molteplici. Tanto qua, sembra che il personaggio flirti con tutti, quindi siete molto libere in questa cosa, quindi nessun problema. Per il resto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli stalker, seguiteci anche su Instagram, che ogni tanto facciamo cose interessanti. Poi se volete venite a trovarci su Discord per fare due chiacchiere in merito ai giochi. Per il resto è tutto. Buonanotte. Dolcette passanti. Al prossimo episodio Grazie a tutti.